...viene incollati, spiaccicati davanti ai televisori, milioni, milioni e milioni di telespettatori. E pare, eh, pare... Come daresti porta a scena, Ricaro? ...stia mettendo in crisi il re dei quiz, il nostro caro Mike Buongiorno. Ecco, signore. Non ti preoccupare mai che vedrai che con calma forse riuscirai a recuperare. Ragazzi, ma non è che si fa tardi? No, vi avverti, io a mezzanotte cambio canale. Non posso mica perdermi l'ultimo film del ciclo su Ubu. Che c'è stasera, Ubu? No, non mi dire che non hai seguito il ciclo del film intitolato Silenzio e morte, disperazione e sudore, ombre gialle e ombre nere. La corea bastarda di Caneto Ubu. Eh no, bene, non lo so perso. Certo, quant'è brutta l'ignoranza, eh? Eh sì. E resto, cari amici, siamo arrivati al momento del primo ospite di questa sera, del primo concorrente, il signor Ernesto Lazzaretti. Ecco qui. Ma chi è qui? Eccolo qua, il nostro simpatico Ernesto Lazzaretti, benvenuto al Superstrike. Enrico. Chi è Enrico? Io. Ah, Enrico! Enrico Lazzaretti. Cosa ho detto, scusa? Ernesto. Ernesto, Ernesto. E purtroppo capi. Enrico Lazzaretti? Ma allora è... Ma lo conosci? Sì, è proprio lui. E chi è? E' un mio compagno di scuola. Roma, Roma, caput, caput mundi. Bravo, bravo, vedete che preparazione anche la lingua latina mi fa piacere. Tu vesti sempre così elegante? Più o meno. O è per l'occasione che vesti sei messo? No, più o meno tengo molto alla forma, un certo rigore. Un certo rigore, c'è un negozio di abbinamento, dovete vestire. No, no. No, è che sei un vero gentleman, diciamo, è un vero gentleman. Bene, i nostri amici in ascolto in questo momento saranno senz'altro curiosi di conoscere cosa fa il nostro amico. Sono studente. Studente, studente universitario. No, liceale. Liceale? Ah, vabbè, c'è un piccolo ritardo evidentemente. No, 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 non mi freddo, non il ritardo mentale, vada bene, dico ritardo nei tempi di programmazione. No, veramente sono stato molto malato. Comunque adesso sei, mi sembra, ti sei rimesso, eh? Facciamo un applauso salutare al nostro simpatico Enrico. Ti piace questo lazaretto, è una persona seria, mi esalta. Ma perché non ce l'hai presentato prima questo tuo compagno di scuola? Caro signor Columbo... No, 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 scusati, Ferro, qui è d'obbligo il tu, impere il tu, quindi vai pure tranquillo, senza problemi. Allora, caro Marco... Certo. Volevo porgere un saluto ai miei professori, se mi ha consentito. Come no? Ai quali sono legato per la vita. Per gli esami anche, soprattutto. Certo, infatti, come dice il grande Eduardo, gli esami non finiscono mai. E grazie ai miei professori, infatti, i miei studi proseguono ad Maiora. Traduco per coloro che non hanno fatto studi classici. Ad Maiora vuol dire sempre più in alto. Bene, quindi come vedete il nostro personaggio ha diverse sfaccettature, oltre ad essere un vero gentleman, un ragazzo ben educato, colto e anche spiritoso. Senti, ma tu hai qualche hobby particolare? Beh, più che hobby, direi che vedo degli amici. Ci riuniamo spesso in un bar che abbiamo trasformato in una specie di circolo letterario, ecco. Ho capito. Una sorta di caffè... Caffè Chantan, dove... No, 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 no. Caffè letterario. Caffè letterario, come si usava all'inizio del Novecento, dove l'intelligenza si riuniva. Molto bene. Sì, il padrone ama contornarsi di noi giovani intellettuali. È un po' il mio mecenate, mi ha sempre aiutato. Infatti, non si vede un becco di un quattrino? È una persona veramente impagabile e, sebbene ci separi un immenso divario culturale, è unito a me da una profonda stima. È un mio amico, chi se ne frega. Grazie, molto gentile. Volevo salutare anche due miei colleghi. Again? No, inglese, questo non è latino, sarebbe di nuovo. No, perché sembra la sagra dei saluti, comunque, visto che sei un personaggio spiritoso, te lo concedo. Prego. Ecco, volevo salutare il caro professor Massimo Conti, il mio valido collaboratore, e il professor Bruno Sacchi, filosofo. Addirittura? Che in tutta la sua vita è sempre stato attratto dall'uomo. Dall'uomo? Dall'uomo. No, signora, guardi, ci deve essere uno sbaglio. Sicuramente non sta neanche parlando di me. Vabbè, comunque, adesso siamo a posto che saluti, siamo sicuri che non è dimenticato nessuno. Bene, allora... Senta, posso togliere il golf? No, perché adesso sei sudato. C'ho ragione. Bene, il simpatico Enrico Lazzaretti si presenta per il calcio. Quindi sarai un appassionato, un tifoso di quale squadra? No, tifoso no. Rifiuto anzi categoricamente l'appellativo di tifoso. Io apprezzo il calcio da un punto di vista puramente tecnico e sociologico. Pallone gonfiato come il padre. Chi è? C'è qualcuno. Pensate che porta anche le mutande giallorosse. Beh, allora c'è qualcuno qua. Canale 5, la prima tv privata d'Europa. Ed è esatto! E' bravo! Capita sto Lazzaretti, si è invertato 3 milioni. Simpatico questo tuo compagno di scuola. Mi esalta. Oh sì, anche a me piace. E' molto distinto. Sì, sì, mi sembra proprio una buona amicizia da coltivare. Non come quel chiccolin che ti telefona tutti i giorni, che è un burino. Amore, al daddy piace l'animale elegante. Perciò da domani il chicco viene schienato. Entra a Lazzaretti che mi esalta. Vai, Lazzaretti! Quanto alla domanda di geografia, non aspetto problemi. La Ormina è in provincia di Messina. E anche sulla stampa rosa sono piuttosto forte. Vado. Il primo genito di Orietta Berti o Mario. E' carino questo vostro compagno. Il nuovo marito di John Collin. E poi viene bene anche in televisione. Bravissimo, bravissimo Enrico Lazzaretti. Facciamolo un applauso, se lo merita. Ah, ma è proprio bravo davvero. Sei emozionato? Beh, un pochino. Però io ci sono un po' abituato a queste cose. C'è una zia, zia Filomena, che ha vinto una bottiglia di Marsala al musichiere. Capirai, una bottiglia di Marsala. Buttà via. E adesso, cari amici, non staccate gli occhi dal televisore perché siamo arrivati al momento clou, un momento emozionante della serata. Infatti il nostro simpatico concorrente romano tenterà un raddoppio di ben 20 milioni di lire. Allora, Enrico Lazzaretti, sei emozionato, immagino? Eh, accomodati in cabina, troverai una cuffia. Ricordo ai nostri amici di ascolto che il concorrente di Roma risponde a domande sul calcio. Mi senti bene? Forte e chiaro. Forte e chiaro. Adesso abbiamo le solite tre buste, le tre buste fatidiche, la numero uno, la numero due e la numero tre. Quale scegli? La numero tre. La numero tre, con la speranza che sia il tuo numero fortunato. Enrico, pensa a tutti i tuoi fans, i tuoi amici, i professori che in questo momento ti stanno guardando e quindi forse questo ti aiuta, ti darà coraggio. Dunque, mi sembra che i nostri spessi sono stati un po' cattivelli. Vedete che spostassi Portaiella. Meglio, meglio. Meglio? La lotta lo esalta. Allora, attenzione, concentrati bene. Si parla dell'ultimo incontro disputato tra la squadra del Rapid Vienna e la rappresentativa del locomotive Lipsia. Ci devi dire in che giorno, mese, anno avvenne l'incontro. Forse è la volta buona che mi paga. No, perde il matematico. Tiè, me ne drà, tiè, tiè, forza, chico. Infine, a che minuto la partita fu sospesa per invasione di campo? In effetti è un po' pesantuccia. Allora siamo pronti, facciamo partire il cronometro, via. Vabbè, ragazzi, diciamo pure addio ai 20 milioni, va? Il 20 agosto 1968 alle ore 20 e 22. Esatto, una precisione svizzera. Allora, attenzione, a che minuto il Rapid segnò il primo gol? Dunque, il gol lo segnò Androff sul preciso assist di un compagno. Ora, alcuni testi riportano che l'autore del cross fu Van de Keloff I, altri Van de Keloff II, ma posso affermare con certezza che il cross fu opera di Van de Keloff IV. No, un momento, Enrico, vogliamo sapere a che minuto? Ci stavo arrivando, il ventesimo. Benissimo, altra risposta esatta. Ma vai, Lazaretti, che sei forte, sei un computer, bravo. Quanto alla zona mediana dei grandi erano in campo. Poi, generale, ospita, stai pronto con i sali per intervenire, eh? Sì, comandatore. Ah, bene. Adesso, attenzione, a che minuto fu annullato il gol al locomotivo? Sì, non mi dilungherò sull'azione che portò all'annullamento del gol, anche se sarebbe utile rivedere l'episodio al telebim. Ciao, De Laurentiis. No, momè, momè, Enrico, il tempo passa, forza, stringi. Sì, il fuorigioco fu segnalato da un guardialine di fama internazionale, il signor coach di Birmingham, tra l'altro proprio nel giorno del suo compleanno. Anzi, volevo cogliere l'occasione per mandargli i miei auguri, seppure un po' in ritardo. Il minuto, il minuto, Enrico. Non l'ho detto? Il ventiquattresimo. Esatto! Bravo! Signora, non mi agiti, per favore. Chico, 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 Chico! Oh, che ci fa venire veramente il cardiopalma, sto ragazzo. Signora! Dunque devo dire che è veramente anche un po' attento alle risposte. E adesso l'unica domanda. Signora! Sveglia, signora! Sto facendo il più bello dello spettacolo. A che minuto la partita fu sospesa per invasione di campo? Sì, effettivamente accadde che un tale, un certo Vladimir Bendek, di professione gelataio, a un certo punto infuriato dalle decisioni arbitrali, scavalcò la rete di protezione e invase il campo, stendendo l'arbitro con un tremendo diretto. Ma l'energumero fu subito bloccato dalle forze dell'ordine, che nell'occasione furono aiutate da un coraggioso branco di cani polizioni. No, per favore. Red, Ted, Fox e Bob, sto scherzando. Ah, ecco, appunto, forza, forza Enrico. E al quarantesimo minuto. Al quarantesimo minuto! Benissimo, risposta esatta! Bravo, Chico, tutto tuo padre! Ale! Bravo, Chico, si riscuote, bravissimo! Risposta esatta! Evviva! Eccolo qua, il nuovo campione!